Sgorpions Abbiamo qui altri due barattolini Quindi ricordiamo che sono editi dalla Tops Come è sempre stato Per gli Sgorpions Perlomeno nel loro paese di origine Gli Stati Uniti E il prezzo di ogni barattolino è di 2,99 euro Questa volta ho preso giallo e verde Quindi l'altra volta abbiamo arancione e verde Avrò due barattolini di slime verde Se non sbaglio Allora Via la pellicolina Spero di non aver trovato doppioni Direi che Questo primo è un colpo fortunato Perché non è doppio Quindi In questo mare di slime Schifosissimo Abbiamo trovato Ok Il nome di questo personaggino Fortunatamente saremo in grado di reperirlo Perché Ho qui con me una piccola sorpresa Dunque a parte che in realtà adesso devo trovare Un paio di forbici per aprire questa bustina Anzi Devo anche togliermi tutto il mocciolo Dalle mani Non è male questo slime comunque È liquido quanto vasto Ho visto Di meglio ma è comunque molto buono E poi naturalmente con gli scorpions ci sta benissimo Allora dove posso trovare qualcosa per aprire la bustina Stiamo improvvisando il video molto malamente Mi scuso In ogni caso Adesso avete già visto più o meno come è fatto questo pupazzetto Io qui con me ho un paio di forbici per aprire Il sacchettino finalmente Non voglio rovinare il pupazzetto Anche perché ricordo che i pupazzini sono in Gomma morbida E sono anche minuscoli Quindi Molto molto carini Però insomma Siamo attenti a non rovinarli Ok Io non so dirvi il nome italiano di questo personaggio Le scorpions in origine erano americane Noi abbiamo comprato qualche tempo fa Una collezione di vecchie figurine degli scorpions Abbiamo voluto l'edizione americana Semplicemente perché i nomi di questi bambini Erano tutti dei giochi di parole E facevano riferimento a un sacco di questioni Anche di fenomeni culturali dell'epoca E naturalmente in lingua originale Vediamo quale fosse il senso originario della battuta Per l'edizione italiana Furono costretti a reinventarle Stravolgerle Perché spesso e volentieri Una semplice traduzione non avrebbe funzionato Quindi l'unico modo per sapere la battuta Vera Originale Del nostro Bambinaccio sgorbion Si è quello di vedere come fosse la sua figurina Beh Questa brutta bambina qui In realtà si chiama Spacey Stacy E questa carta che ho in mano È quella originale Americana Direi dell'86 Viene dalla seconda serie Perché è la numero 63 Spacey Stacy Carinissimo Sono contento di avere Pupazzetto Abbinato alla figurina originale Dietro la figurina vediamo anche delle storielle Non voglio macchiare troppo questa figurina Perché insomma Sono dei veri cimeli oggi Dietro abbiamo una specie di diploma Il premio piedone Per il numero di scarpe più grande in Nord America I tuoi piedi sono così grandi Che bisogna deviare traffico ogni volta che attraversi la strada Eccetera Eccetera Va bene Mettiamo da parte questa figurina Qui la nostra è Spacey Stacy E adesso sto cercando di togliermi dalle mani tutto questo Mocciolo appiccicosissimo per aprire il secondo parattolo Dunque Rullo di tamburi Noi non vogliamo doppioni Non ho visto Ah ma forse siamo stati fortunati Perché non mi sembra che sia doppio Il colore dello slime è molto simile È un verdino ma non è molto diverso dal giallo Che abbiamo appena aperto No non vi contaminate State separati E non è doppia Sono molto contento Quindi abbiamo quattro scorpions diversi Questo non sapevo che lo facessero Uh ma chissà se lo abbiamo tra le nostre figurine Allora Via questa pellicolina minuscola Anche questa è famosa Non è della prima serie Non credo Abbiamo questo bambino bruttissimo Che si apre la faccia Tirando giù la zip E sotto vediamo il suo teschio Era anche difficile da renderli in pupazzetto Abbastanza ambizioso Carino Sono contentissimo Di questi piccoli scorpions Vediamoli insieme a Spacey Stacy E agli altri due mostri di chatuli Che abbiamo trovato Voilà Sono veramente contento Di aver trovato qualcuno di questi pupazzetti Le scorpions mi fanno impazzire da sempre Dobbiamo deciderci a impegnarci un pochetto E fare un video come si deve Per questa vecchia collezione di carte e figurine Erano carte in America In Italia erano diventate figurine E come vedete E come vedete si tratta veramente di bambini Orribili Windy Winston Vedete da soli cosa sta facendo Alcuni erano veramente macabri Insomma Brillante collezione Mi piace molto anche questa collezione In edicola devo ammettere Belli pupazzetti Lo slam è di ottima qualità 3 euro per ognuno Non mi sembra esagerato Sono tutti ripinti Carino Non so se mi deciderò a comprarne altri Ma per adesso sono molto contento Mi raccomando Voi fateci sapere che cosa ne pensate Nei commenti qui sotto Tutti i ricordi Voi sapevate i nomi di questi Vari bambinacci Cliccate su mi piace Se il video vi è piaciuto Potete condividerlo Potete seguirci anche su Facebook E su Instagram E naturalmente Se non siete ancora iscritti Potete iscrivervi al nostro canale Ciao Ciao